Siamo tutti quanti in ospedale a lavorare, è anche difficile in questo momento andare in ferie o andare in vacanza da qualche parte. Non so come è uscita questa affermazione dell'assessore Gallera, francamente mi stupisce un pochino. E poi non è che tutto l'ospedale può essere in ferie, se non ci sono gli internisti o altri medici il vaccino può essere fatto dagli infermieri, dagli assistenti sanitari, da altri medici di altre specialità e l'assistenza da medici di varie specialità. Quindi mi sembra una giustificazione abbastanza strana, ecco francamente è un problema che secondo me non dovrebbe esistere. Dottor Manfelotto, ma le risulta che molti medici sarebbero disponibili a dare il loro contributo magari part time e che questo non sia possibile allo stato attuale? No, perché non è possibile? Intanto noi come medici internisti abbiamo aderito al 100% alla campagna vaccinale con l'adesione ad essere vaccinati. Siamo in prima fila non solo nell'assistenza ma anche nella vaccinazione, ma anche medici di altre specialità come nel mio ospedale. Io sono primario di medicina interna al Fatebene Fratelli di Roma e anche da noi i medici sono disponibili ad assistere durante la procedura vaccinale e addirittura a farlo personalmente come vaccinatori. Io francamente qui nel Lazio va bene che stiamo vivendo una situazione particolarmente virtuosa, siamo i primi con il 48% delle vaccinazioni, leggo dai dati di questa mattina, però credo che sia soltanto un problema di organizzazione e forse si è sottostimata all'importanza di partire molto tempestivamente e il ritardo è stato accumulato, ma sono convinto che la Lombardia con la sua organizzazione riprenderà rapidamente, immagino. Dottor Maffellotto, questa variabile però, queste discrepanze così vistose tra una regione all'altra o anche rispetto ad esempio alla provincia autonoma di Trento. Lei dice problemi organizzativi e possono esserci anche tra questi, non soltanto quelli del personale, ma le forniture per la campagna di vaccinazione? Guardi, noi abbiamo avuto già il 27 di dicembre a Spallanzani è cominciata la campagna vaccinale parlo del Lazio, nei giorni successivi sono arrivate le scorte di vaccino negli altri ASL per essere distribuite ai vari centri, devo dire che è stata creata una rete per la quale tutti quanti possiamo avere accesso alla fornitura del vaccino. Quello che è successo nelle altre regioni mi sembra analogo, perché si parla per esempio della Lombardia di 80.000 dosi consegnate, però appunto un 3,8% di vaccinazioni. E così nelle altre regioni più o meno la percentuale, cioè il numero di dosi consegnate è abbastanza alto. Io non credo che dipenda dalla distribuzione, credo che forse ci sia stato un problema, un ritardo nell'organizzazione che in questo caso ha penalizzato la Lombardia, ma mi auguro, spero che sia recuperato nei prossimi giorni. Noi qui eravamo partiti, anche nel mio ospedale eravamo partiti già da una settimana addirittura con le prove per verificare, le esercitazioni per verificare le modalità di scongelamento, diluizione e somministrazione. Ecco, un problema di organizzazione che forse da qualche parte è mancato. Dottor Manfelotto, un'ultima domanda. Avete, vi siete dati, per meglio dire, una organizzazione del lavoro particolare alla ripresa adesso nel nuovo anno, proprio per fronteggiare la campagna di vaccinazione di massa? Parlo di organizzazione anche dei turni vostri di lavoro. Assolutamente sì, lei consideri che nella gran parte degli ospedali, i medici internisti proprio, ma anche gli altri, però parlo per i medici che rappresento, facciamo non soltanto i turni nei centri Covid, ma anche i turni nei reparti normali, Covid free, per i pazienti, soprattutto i cronici che devono essere assistiti, ai quali bisogna garantire comunque percorsi puliti e assistenza per non perdere assolutamente nessuna occasione di curare questi pazienti. Quindi l'organizzazione è quella, in molti casi, di un raddoppio del lavoro, ma nessuno si sta tirando indietro e anche per la campagna vaccinale molti medici continuano a fare i loro turni e anche a essere inseriti nei turni delle vaccinazioni. Io credo che rapidamente le regioni nel giro di 7-10 giorni si allineeranno tutte a un'ottima percentuale di vaccinazione.